E da una stazione ferroviaria qualunque di Milano, Maurizio Milani. Io ho sempre avuto la passione per la latrina. Già da bambino scappavo di casa per andare al gabinetto della stazione. Le ore più serene le passavo lì. Era bello sentire il profumo dell'urina. E vedere i giovani bovini andare dentro in 5 o 6 in un bagno a fare il trenino. Adesso con gli anni ho avverato il mio sogno. Fare il latrinaio e vivere di quello. Ho giù 10 orinatoi e 12 buche. Posizione a 90. Sono le turche. Uomini di colore non ne faccio entrare. Se devono scaricare lì c'è un fosso perché... La prima cosa che ho fatto quando ho rilevato la licenza è stata quella di levare i divisori tra gli orinatoi. Vedi proprio che i clienti stanno lì dei quarti d'ora in più a fare la gara e a sbire il lutto. Ho messo anche un pavimento a ciotole anti-sdrucciolo come per le porcilaie. Per evitare che quando il peso di un maschio grava sulla schiena dell'altro non scivoli. No, mica che si spacca una zampa e vado nelle grane io. Insomma, quei quattro soldi che avevo via li ho spesi per fare un locale dove vai e rimani oltre il tempo dello spruzzo. Di movimento ce n'è tanto. Militari, pensionati vengono volentieri perché fanno come a casa. Vuoi defecarmi nel lavabo? Pronti! Scrivi sul muro? Sì. C'è lo spray? Se no ti do io un picco incidi l'intonaco manca la carta? fai una virgola sulla porta. Si entra a noi. L'unico limite è stato quello di mettere una grata nei water in fondo per forza. C'è un ratto che si è imbastardito col salmone ha preso quella testa lì mi va su al contrario nelle tubature morsi carretto del cliente non è una bella cosa nell'ultimo cesso c'è un rapito sì perché solo con l'offerta dell'urina non ce la faccio le spese ci sono è tre mesi che ce l'ho in mano martedì mi ha messo il pene tra gli elementi del termosifone lì tutto il giorno qualcosa deve fare gli è andato su di volume non riusciva più a tirarlo fuori allora mi sono commosso e l'ho mutilato a secco perché lui è rimasto un po' deluso poi alla fine ha capito e mi ha ringraziato adesso la parte ce l'ho in viva io se c'è da discutere per il riscatto con i parenti si spedisce quella è inutile operare ancora sto uomo sa vado a vedere quanto l'etame è un carico che chiamo l'autista